Ben trovati, l'altro giorno Silvio Berlusconi è stato decisamente duro durante la conferenza stampa attaccando la magistratura, però a questo punto sapete io come la penso e come ho stigmatizzato i comportamenti privati di Silvio Berlusconi, non perché intravedessi una immoralità o una responsabilità penale, ma per un'etica dei comportamenti, però oggi sono seriamente preoccupato di quanto sta avvenendo nel nostro Paese a pochi giorni dai 18 anni di Tangentopoli, il 17 febbraio con l'arresto di Mario Chiesa del 1992, sì sono preoccupato perché così come la richiesta mandata in Parlamento alcune settimane fa non doveva prevedere necessariamente tutte le intercettazioni telefoniche dattino scritte, per cui lo si è fatto soltanto per mandare tutto alla stampa, mettendo anche alla Berlina soggetti discutibili, ma che comunque sono dei cittadini privati e sono liberi di far ciò che vogliono nella propria intimità e non parlo quindi di Berlusconi, ma principalmente per quello che nuovamente abbiamo conosciuto l'altro ieri con le ulteriori 800 pagine in cui un ex partecipante all'Isola dei Famosi contestava arrabbiata Silvio Berlusconi dopo essere stata sua amica con coinvolgimenti di altri personaggi anche discutibili, ecco in questo caso non vi è stato rilevato alcun reato penale, però sono stati dati alla stampa e in queste altre 800 pagine si mina ulteriormente la credibilità di un uomo, secondo voi magari o secondo tanti cittadini giustamente, cioè il Premier, ma anche della sua famiglia come il fratello, la figlia, il figlio, ecco queste ulteriori indiscrezioni lette di fatto fanno comprendere che vi è l'obiettivo politico, per cui al di là delle colpe di Berlusconi e della sua irresponsabilità nelle proprie azioni, abbiamo compreso che si vuole arrivare a mandar fuoristrada, malgrado il volere o meno dei cittadini, il Premier Berlusconi, però per farlo fuori ci sono delle modalità previste dalla Costituzione, che è quella della sfiducia e le opposizioni non sono state in grado di ottenerla nei riguardi di Berlusconi, per cui archiviato quel caso e alcuni diranno, ma comunque in ogni evidenza se li è comprati i parlamentari, va bene. Poi c'è un altro aspetto che è quello dello scioglimento voluto dal Presidente della Repubblica delle Camere, oppure della denuncia per attentato alla Costituzione da parte dei governanti. Nessuna di queste strade è stata percorsa, così come un'altra che ho suggerito io un po' di giorni fa, ma che non è prevista dalla Costituzione, delle dimissioni in massa di tutti i rappresentanti dell'opposizione e questo non avverrà mai perché nessuno vuole andare ad elezioni anticipate, considerati anche i sondaggi. Ma si dovrebbe ritornare a guardare anche la storia. Nel 1922, quando il nostro Paese era in preda a dei disordini, qualcuno pensò che presumibilmente il fascismo poteva ristabilire un ordine, malgrado lo schiacciamento di alcune garanzie democratiche. Ecco, con quella buona fede che cosa poi è successo? Che per vent'anni abbiamo avuto una dittatura, una dittatura reale, vera nel nostro Paese. Non vorrei che oggi, con l'ipotesi che, facendo fuori in modo anche più particolare attraverso il ruolo della magistratura il Premier, si possa cadere nuovamente in uno scontro tra poteri che potrebbe determinare partorire uno Stato non più di diritto, così come successe quasi vent'anni fa e poi pian piano ci siamo resi conti dei vari errori fatti durante le indagini di Tangentopoli. Noi credo che dovremmo, come dire, ritornare a guardare e a considerare anche Benedetto Croce, che fa una distinzione tra etica, morale e politica e potere. Questa è la verità e non confonderci, anche perché le manifestazioni di oggi, quella di Roma delle donne e quella di Milano di Giuliano Ferrara rendono chiaro, come dire, lo spaccato della nostra società. Da una parte si manifesta perché le donne non possono decidere del proprio utero, perché si vuole polemizzare con Berlusconi e non è una manifestazione sulle libertà e sui diritti delle donne, perché altrimenti avrebbero dovuto manifestare anche per, come dire, la libertà delle donne nel mondo musulmano e invece è chiaro l'indirizzo delle donne presenti a Roma. E dall'altra parte in mutande ma felici, dice Giuliano Ferrara, si manifesta per ristabilire un equilibrio. Difficilmente avverrà tutto ciò. Io credo che in ogni parte d'Italia, così come a Roma, se Berlusconi ed altri eliminassero i pappagalli, gli scodinzolatori, avrebbero avuto magari migliori consigli su come impostare il tutto, perché due anni fa Berlusconi doveva smetterla di giocare in quel modo con le donne, visto che il campanello d'allarme lo aveva dato proprio la moglie, affermando che è malato e va con le minorenni. Si doveva affermare, ma nessuno gliel'ha imposto questo. Ma i servi sciocchi hanno detto che Berlusconi sei sempre il più forte, sei sempre il migliore e oggi noi rischiamo di vedere una magistratura che vuole graffiare un potere che è stato legittimato dal cittadino e paradossalmente la libertà sessuale delle donne non più difesa nelle piazze dal popolo della sinistra, ma è solo una battuta. Paradossalmente questa libertà magari difesa dal sindacato delle prostitute italiane, perché i tempi sono cambiati e purtroppo stanno cambiando sempre in peggio. Buona domenica. Grazie a tutti.